Il bilancio che il Consiglio Comunale approverà il 19 di novembre è un bilancio che prevede tranquillamente il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità. Un bilancio tranquillo, a differenza di altri comuni che hanno aumentato l'Imo al tetto massimo per le seconde case, che hanno aumentato l'Imo sulla prima casa, il Comune di Nardò non ha avuto necessità di questi ritocchi, gli obiettivi del patto di stabilità vengono osservati anche con l'attuale livello di tassazione, i cittadini pagano già molte tasse, non è il caso di incidere ulteriormente, abbiamo preferito invece operare sul fronte dei risparmi e sul fronte dei tagli e questo ci consente di presentare alla città il bilancio del risanamento a poco più di un anno dalla vittoria elettorale, un risultato di cui siamo contenti. In effetti il parere dei Revisori dei Conti non è un parere positivo al bilancio di previsione, però il loro parere è un parere con diverse inesattezze. I Revisori dei Conti hanno studiato poco anche questa volta ed è una cosa che l'amministrazione comunale non apprezza. Il bilancio di previsione è stato redatto e approvato dalla Giunta nel rispetto di tutti i principi contabili degli enti locali, nel rispetto della legge, un rigoroso controllo dei conti. Si consideri che non c'è stata neppure la necessità di utilizzare gli accertamenti di Tributo Italia per oltre 2 milioni di euro, li abbiamo messi da parte perché il bilancio è in ordine anche senza quegli accertamenti. Si consideri, come ho detto prima, che non c'è stato bisogno di aumentare le tasse oltre a parte i due punti dell'Imu, si consideri che non ci sarà neppure bisogno quest'anno di alienare gli immobili comunali. Quindi un bilancio a posto, patto di stabilità rispettato, gran parte dei debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati, un lavoro di risanamento, quello che ci siamo prefisso. Del resto la città, tra le altre cose, in campagna elettorale ci chiedeva anche questo, di mettere a posto i conti del comune, di dare alla città garanzia e certezza che il comune di Nardò è un comune che pagherà sempre gli stipendi, che il comune di Nardò è un comune che pagherà sempre i suoi fornitori, che il comune di Nardò è un comune che potrà dare garanzia a tutti gli interlocutori di essere una città con i conti in ordine. Ci siamo e siamo molto contenti. Ad oltre me gli auguri i miei personali e anche di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la città di buon compleanno. Un anno di servizi, un anno di informazione. Seguiamo ogni giorno con attenzione questo portale, questo sito di informazione che arricchisce l'informazione e la cultura della città di Nardò e che dà un segnale importante della nostra città anche fuori del territorio. Festeggiate il vostro primo compleanno e tanti 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 anni di successi oltre me.